Questa che vedete è un'ottica vintage della Tamron ed è un obiettivo zoom. Nel corso del video di oggi andiamo a parlare proprio di obiettivi zoom, quindi con la possibilità di zoomare avanti e indietro, e andrò a spiegarvi perché li avete sempre usati nella maniera sbagliata. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per mestiere. Porto su YouTube la mia esperienza in maniera tale che tutti quanti possiamo imparare qualcosa di utile anche dai miei errori. motivo per cui invito tutti quanti a iscriversi al canale caso mai non l'aveste già fatto. Ma andiamo subito a incominciare. Perché dico che la maggior parte delle persone sta utilizzando le ottiche zoom nella maniera sbagliata? Beh, perché un'ottica zoom ci mette in grande vantaggio perché possiamo zoomare avanti e indietro, però questo ci fa ragionare di meno. E spesso e volentieri io mi rendo conto che ci sono fotografi che scelgono la lunghezza focale sbagliata. Che cosa voglio dire con questo? Vi do anche qualche pillola in più per cercare di capire come si utilizzano le lunghezze focali. Nel momento in cui io sto facendo un ritratto, probabilmente la lunghezza focale migliore da utilizzare è tra 50 e 100 mm. L'85 mm è veramente la roba sua per fare ritratto. Ora, che cosa succede se io tiro fuori la mia ottica zoom, guardo dentro, sono vicino al mio soggetto e la composizione va già bene. E magari sto scattando a 24 mm. Succede che va già bene e quindi io dico, oh che bello, gli faccio la foto a 24 mm che tanto va bene. E invece no, sarebbe stato meglio fargliela a 70 mm. A 85 mm sarebbe stato migliore come ritratto. Perché la lunghezza focale determina il rapporto tra il soggetto e lo sfondo, determina la distorsione dei lineamenti. Quindi per tutta una serie di questioni tecniche, ottiche e anche semplicemente di grammatica dell'immagine per come è stata codificata finora, la lunghezza focale va scelta con criterio. Quindi viceversa, se io invece tiro fuori l'ottica e sono già sul versante lungo del mio zoom, tiro fuori un 24-70 e sono già a 70 mm. Guardo dentro e dico, cavolo, sono troppo vicino al mio soggetto, che cosa faccio? Zoom indietro. E invece no, bisogna fare due passi indietro per usare la lunghezza focale giusta a seconda di quello che stiamo fotografando. Questo è molto importante ed è la prima cosa che tutti quanti sbagliano all'inizio, almeno quando cominciano a utilizzare delle lenti zoom. Un'altra cosa in cui l'utilizzo di un'ottica zoom ci porta proprio a lavorare peggio è la composizione, in particolare l'asse che decidiamo di tenere con il nostro soggetto. Vi faccio un esempio. Vedete nell'inquadratura che state osservando in questo momento che la composizione prevede che io sia centrato e che io sia praticamente in linea col monitor che c'è lì dietro. Se io sto utilizzando un'ottica zoom, magari mi curo meno della composizione perché zoomando avanti escludo degli elementi di disturbo che ci sono intorno e quindi zoomando avanti ho l'impressione di aver già migliorato la mia fotografia. Ma se io cambio l'asse su cui sto scattando può essere che riesco a escludere elementi di disturbo in maniera più efficiente piuttosto che zoomando avanti. E di nuovo, magari zoomando avanti uso la lunghezza focale meno adatta per quel tipo di composizione. Quindi imparare a spostarsi lateralmente quando si utilizza uno zoom è una cosa molto utile perché al di là di zoomare avanti, spostandosi lateralmente, riusciamo a ottenere delle composizioni migliori. E questa è una cosa che l'ottica zoom ci porta a non fare perché noi zoomiamo avanti e abbiamo l'impressione rispetto all'inizio quando guardiamo dentro, zoomiamo e diciamo ok l'ho già migliorata. Quindi va bene così. E invece se ci spostassimo di due passi a destra, due passi a sinistra, probabilmente la miglioreremmo molto di più che non semplicemente zoomando avanti o indietro. Ora un'altra cosa da tenere in considerazione è che le ottiche zoom hanno una zoomata che è tendenzialmente analogica. Nel senso che io posso zoomare e posso decidere di scattare, facciamo finta che sia un 24-70, posso scattare a 24, posso scattare a 35, a 50 e a 70. Ma ho anche tutte le misure intermedie perché il movimento è fluido ed è continuo. Quindi io sostanzialmente posso scattare a 24 mm, posso scattare anche a 25, posso scattare a 38 e mezzo. Esiste tutta una serie di step intermedi che io posso andare più o meno a identificare nel corso della mia zoomata. Vi dico questo perché? Perché non è che ci sia un modo giusto e un modo sbagliato di farlo, però c'è un modo consapevole di farlo. E vi voglio spiegare quella che è la mia personale filosofia. Per quanto io sia assolutamente a favore della libertà creativa e compositiva quando si fotografa, quindi secondo me quando guardi in macchina dovresti comporre e utilizzare lo zoom in maniera tale da ottenere l'immagine che vuoi e buono così scatti la foto e siamo tutti contenti. Però secondo me questo è tanto più vero in certi generi fotografici piuttosto che in altri. E vi do un'altra pillola. Nel momento in cui io sto facendo reportage, sport, cerimonie, matrimoni, battesimi, compleanni, discoteca, in quel caso la lunghezza focale che io sto utilizzando non conta poi così tanto. Sì certo ci sono dei canoni da rispettare, ovviamente non faccio i ritratti alla sposa col fisheye, però diciamo che grosso modo se sto lavorando bene non importa tanto se sto usando un 50 mm o se sto usando un 35 mm, non importa tanto se sto facendo il ritratto alla sposa con il 70-200 e sono a 100 mm oppure se sto usando l'85 mm di un'ottica fissa. Non cambia così tanto perché il risultato è quello, il risultato è un ritratto della sposa per esempio. Esistono invece dei contesti dove la lunghezza focale è importante. E vi faccio l'esempio del cinema per esempio, è la prima cosa che mi viene in mente. Nel cinema esistono molti registi che per scelta, soprattutto in passato, adesso forse un po' di meno, per scelta hanno deciso di lavorare con una lunghezza focale specifica. Per esempio, adesso non vorrei dire una cavolata perché poi non mi ricordo chi usava cosa, però forse era Stanley Kubrick che usava il 35 mm e per diversi suoi film ha usato solo il 35 mm per tutte le riprese. Non mi ricordo se era Kubrick e non mi ricordo quale film, avrei dovuto andarmelo a rivedere, però ci sono dei registi che ragionano in quest'ottica. Questo perché ve lo dico? Ve lo dico perché nel momento in cui facciamo qualcosa di artistico, ecco che la lunghezza focale è più importante perché magari vogliamo avere sempre la stessa lunghezza focale. Ecco che se vogliamo avere sempre la stessa, se stiamo usando uno zoom, dobbiamo ricordarci di impostare sempre la stessa, non possiamo fare un po' 35, un po' 38, un po' 32 e mezzo. Se abbiamo scelto, se il design della produzione deve essere di quel tipo, dobbiamo utilizzare sempre la stessa lunghezza focale. Quindi ci sono momenti in cui utilizzare tutta la scala del nostro zoom e ci sono momenti invece in cui dobbiamo ricordarci di utilizzarlo esattamente a quella lunghezza focale. L'importante è la consapevolezza se stiamo operando nel primo o nel secondo caso. Poi in fin dei conti è una scelta nostra, ma l'importante è che sia una scelta e che non sia lasciata al caso. Una cosa che personalmente trovo fastidiosissima delle ottiche zoom e da cui quest'ottica Tamron Vintage non è certo esente, sono le cose che cambiano nel momento in cui noi andiamo a zoomare. Ora, una volta le ottiche secondo me le facevano meglio di adesso. Questa qui è un'ottica Tamron degli anni 90, credo, mia vecchiotta. È tutta di metallo e qui sopra il barilotto dell'obiettivo c'è il diagramma luminoso con l'illustrazione di quello che cambia nel momento in cui noi andiamo a zoomare avanti, zoomare indietro, aprire e chiudere il diaframma. Al di là di questo, sono spiegazioni che troviamo anche magari a display adesso sulle nostre mirrorless, quindi non c'è più bisogno di disegnarlo sul barilotto dell'obiettivo. Però che cos'è che cambia? Su moltissime ottiche zoom, soprattutto entry level, quando noi andiamo a zoomare perdiamo luce perché il tubo si allunga e la quantità di luce che riesce a entrare nel tubo allungato è inferiore piuttosto che quando siamo con lo zoom al minimo. Questo che cosa significa? Sto facendo una fotografia con lo zoom al minimo e ho messo un certo tipo di esposizione, zoomo avanti e la foto viene troppo scura. Oppure viceversa, faccio l'esposizione tutto zoomato avanti, poi zoomo indietro e scatto di nuovo, viene sovraesposta. Questa è la prima cosa che può cambiare parecchio perché quando abbiamo un diaframma variabile e spesso gli zoom, anche professionali, hanno il diaframma variabile, questa è una cosa molto fastidiosa con cui dobbiamo scendere a patti. O ci ricordiamo che ogni volta dobbiamo rivedere i parametri oppure molto più semplicemente scattiamo con una priorità, con un automatismo della macchina. Io per esempio uso tanto priorità di tempi quando utilizzo un'ottica zoom con il diaframma variabile, così io gli dico che i tempi devono essere sempre quelli e così non corro rischi di avere le foto mosse e dopodiché zoomo a piacere e la macchina muoverà gli ISO e i diaframmi in maniera tale da darmi l'esposizione sempre giusta. È la mia personale soluzione, non è l'unica, ce ne sono tante altre. Un'altra cosa che non mi piace particolarmente delle ottiche zoom e su cui bisogna fare un pochino di attenzione sono le luci parassita. Ovviamente quando utilizziamo delle ottiche più complesse soprattutto sul lato grandangolare è facile che tiriamo dentro delle luci parassita, dei bagliori, dei punti luce che si infrangono contro il frontale della nostra lente e generano effetti indesiderati. Quando utilizziamo un'ottica zoom dobbiamo fare ulteriore attenzione perché se noi cominciamo a lavorare con un certo tipo di zoom, magari io comincio a lavorare a 70 mm e poi zoom indietro e vado a 35 mm magari io ho lavorato sul 70, ho fatto il mio set sul 70 nel momento in cui zoom indietro sto abbracciando una porzione di angolo di campo maggiore e posso portarmi dentro una luce parassita che in fase di preparazione non avevo visto, non avevo contemplato e quindi dobbiamo stare ulteriormente attenti quando zoomiamo indietro. Insomma queste sono una serie di cose che personalmente non reputo dei problemi insormontabili sono solo delle cose a cui fare attenzione quando utilizziamo delle ottiche zoom ovviamente io non sono qui a sconsigliarvi di usare delle ottiche zoom io ne ho tantissime, le uso tutti i giorni, mi piacciono moltissimo, non ne farei mai a meno ho anche qualche ottica fissa ma l'importante è sapere quando usare una e quando usare l'altra e quando usiamo un'ottica zoom è importante ricordarsi di tutte le cose che vi ho detto in questo video se ce ne sono delle altre che io mi sono dimenticato fatemele sapere scrivendomele qui sotto in un commento vi ricordo anche di iscrivervi perché se fate delle domande vi rispondo con degli shorts verticali signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video